E ribadire quello che ha detto Morando, un film riuscito, un film da lieto fine, nonostante sia un film d'autore che devono per forza di cose finire sempre male, qui c'è un lume di speranza che indubbiamente mette lo spettatore in uno stato di Eden. Per quanto riguarda il film, una storia intensa, generazione e confronto, solidarietà a Go Go, uno scenario anche piacevole.